Benvenuti a tutti i telespettatori di Classi NBC, al momento dedicato alle vostre domande, perciò se ne avete mi raccomando approfittate del 349-8275-983 perché oggi a rispondervi c'è il nostro immenso Andrea Cartisano di Giotto Cellino Sim, oggi col giro collo, sai che noi valutiamo come sei vestito, il gatto è sempre più scarico, magari tra un po' non arrivano più soldi perché quello si ferma, buongiorno Andrea, come stai? Eh purtroppo non sto benissimo e ho appreso con grande dispiacere che facciamo pure la versione extra long L'ho detto apposta, l'ho detto apposta, così almeno subito segate le gambe, allora caro Cartisano Ma stai lavorando? Oggi ho visto i volumi... Ma allora sto lavorando però ho visto poco, adesso ho una situazione poco piacevole da gestire che non ti dirò se no poi mi meni il bipuntato, però ovviamente sto lavorando perché qualcosina c'è sempre anche se come hai ricordato giustamente tu, sposto un attimo la testa, abbiamo in questo momento 3813 contratti FIB e come controvalore poco fa eravamo poco sopra 330 milioni Guarda, se arriviamo al miliardo oggi dobbiamo sbocciare Ma infatti tu che ormai hai un certo credito e mi tocca veramente tanta fatica a metterlo potresti lanciare una sottoscrizione per farci stare chiusi quando è chiusa la borsa americana perché intanto veramente purtroppo solo... No perché poi ci prendono la mano e ci fanno stare chiusi sempre quindi è meglio di no Ebbè, ebbè E gli vanno a fare solo asta, perché io ho detto questo è il mio timore ma tra un po' facciamo solo asta iniziale, asta finale e mi toccherà poi commentare l'America faccio l'America tutto il giorno Comunque dai, punto di giornata Beh no, prima mi avevi promesso che visto che anche Extra Long oggi mi fai fare la parte a Marcord tra l'altro apprezzatissima dai telespettatori Cosa è successo? Eh, sono andato indietro nel tempo, il flashback era il 30 dicembre 2006 Premio Canazzei, settima corsa a Milano Ah, del Trotto Il purtroppo defunto ipodromo del Trotto che adesso l'hanno trasferito la Maura ma non c'è paragone Andiamo in macchina io, buonanima di mio padre e Alessandro Gocciadoro che saluto perché è diventato nel frattempo il più grande driver italiano Chi segue l'Ippica dovrebbe saperlo, ormai driver di fama internazionale che mi guida il mio miglior cavallo Il famoso Dickens LJ, figlio di Tossout, grande stallone americano e rosa rossa che corre una gara anonima fino alla retta di fronte Poi me lo sposta sulla retta di fronte e fa gli ultimi 600 metri in meno di 43 sulla pista ghiacciata e arriva secondo che se c'era ancora 50 metri avrebbe anche battuto il cavallo di Pippo Gubellini che per l'occasione era egoistans E il problema è stato però il giorno successivo che vado in scuderia all'ippocampus il cavallo si è fatto male ma è più da corsa Questo per ritornare perché c'è il collegamento con la borsa che ieri quando ho letto di Tecma che si occuperà della vendita ma diciamo il software di Tecma si occuperà della vendita della riqualificazione residenziale di via Rospigliosi ed è dove ci sono le scuderie dell'extrotto dove io andavo abitualmente quando portavo i miei cavalli a correre a Milano In realtà c'è da dire che al di là di questa notizia che a mio avviso non giustificherebbe un rally del genere c'è anche da dire che hanno comprato anche soggetti rilevanti manager della società sono usciti dall'internet per cui hanno un po' aiutato a sostenere il titolo non perché ne abbiamo occupate tante ma perché comunque è sempre un buon segnale era già successo per esempio di recente con Energy Tornando invece al mercato duro e puro No, 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 io voglio rimanere sull'Amarcourt che io mi diverto nel tuo passato da proprietario di cavalli Scusa, ma qual è stato il miglior risultato portato a casa? Dai, dimmi, dimmi, dimmi No, beh, allora questo cavallo però me ne scuso con i telespettatori è un linguaggio tecnico Dickens LJ è stato comprato alle aste di Settimo Milanese dal grande fu Atos Lombardini grandissimo imprenditore nel campo della moda pronta diciamo delle confezioni che ha avuto dei cavalli fortissimi quello che mi viene in mente che forse lui amava di più a parte qualche americano era turno gas e sembrava un puledro veramente incredibile perché quando paghi 100 milioni un cavallo che non sai neanche se andrà in pista vuol dire che ci credi molto la genealogia è buona poi il cavallo dopo un po' di successi iniziali si è fatto male è stato venduto a Paolo Casalini saluto anche Paolo che è ancora al mondo che scontento dei suoi risultati prima e no perché è stato anche male Paolo per quello e grazie e devo salutare un'altra persona sono affezionatissimo al mio socio il grande Carmelo detto Carlo titolare di un banco di frutta e verdura al mercatino delle erbe in via Ogobassi mi dice c'è questa metà di questo cavallo da comprare costa poco dico tranquillamente 3000 euro compriamo poi Paolo si stufa ci vende l'altra metà per altri 3000 euro quindi spendiamo 6000 euro e lo portiamo a reclamare a Ravenna vince per dispersione vince la seconda gara e poi dalla categoria reclamare va a correre il premio Giorgio Jäger che è un gruppo 2 per cui vuol dire che fai da reclamare c'è G, F, E, D, C, B, A e poi i gran premi gruppo 3, gruppo 2, gruppo 1 ma ci hai guadagnato con i cavalli nella vita scusa penso di essere uno dei pochi che non ci ha rimesso e credimi che in Italia è un grande pregio perché i premi ormai sono ridicoli non me ne vogliano gli attuali proprietari di cavalli che sono degli eroi al tempo si vinceva ancora bene io mi ricordo che la mia cavalla Elen de Gloria presa a reclamare in una corsa a Modena che a Ricco Bellei si arrabbiò tantissimo quando arrivò la mia offerta la pagai tipo 7.000 o 7.500 euro non ricordo so che portai l'assegno dopo poche corse partecipò a un'attrice a Treviso vinse l'attrice nazionale e mi sembra mi diedero 15.000 euro quindi comunque diciamo che ho dei buoni ricordi ma quanti anni avevi quando avevi tutte queste cose? avevo 32-33 anni e poi cos'è successo Cartisano? e poi è successo che quando dico che sono un nobile decaduto è la verità non farmi entrare nei dettagli no no ci mancherebbe ci mancherebbe dai però ci tengo a dire non per colpa della borsa per altri fattori per altre cose lo so allora dai partiamo un po' invece dai tanto no col punto di giornata che è importante perché in realtà al di là dei volumi il FIB è a rischio di distribuzione per cui comunque se dovesse perdere più che oggi che secondo me conta poco domani gli Stati Uniti sono aperti solo mezza giornata il 29.125 minimo del 16 di novembre potrebbe tornare subito a 28.780 e poi a 28.490 questo perché al di là degli upgrade di Moody's il settore bancario tolto secondo me Montepaschi sta iniziando a fare un po' più di fatica per cui soprattutto Bami Biper ma la stessa Sondrio che viene da Rally incredibile Unicredit è sostenuta molto dai buyback stanno facendo un po' più fatica tutti i titoli del settore bancario e non sarebbe peraltro così negativa una correzione perché tutti sai che arrivati oggi siamo al 23 di novembre a questo periodo dell'anno evocano il rally di Natale però perché ci possa essere un rally di Natale secondo me il mercato deve stornare e ripeto 28.780 28.490 ritorna praticamente a quel punto sulla media mobile a 100 e da lì può provare a tornare sui massimi dell'anno che sono stati a 29.910 diversamente lo avesse fatto subito senza una minima correzione il rischio bull trap sarebbe stato molto elevato i mercati invece azionari americani sono messi sicuramente meglio perché anche ieri hanno fatto un nuovo massimo di breve periodo ma sono i forti per comprato in Europa il mercato più forte di breve è il DAX però ieri c'è stato un bel segnale di recupero del Caccarant che aveva perso la media mobile a 200 e l'ha prontamente ripresa il vero problema di questa fase di mercato è che mancano soprattutto sempre sui titoli mid cap star e growth i trend perché per farti un esempio pratico se noi prendiamo un grafico di un titolo che molti seguono Serin Dastial ha provato due volte a partire il 15 di novembre che è andato fino a 2,94 e anche martedì è andato fino a 2,93 ed è in laterale sui minimi e dal mio punto di vista sta accumulando però è difficile riuscire o avere addirittura continuità nella stessa seduta che significherebbe chiudere almeno in area di massimi di giornata o magari c'è un rally di una o due sedute e poi dalla terza seduta cominciano i ribassi oggi per esempio è di nuovo la volta di Convergenze Convergenze fa rally martedì rally ieri oggi già corregge ecco queste sono queste sono un po' le dinamiche che danno più fastidio oggi volava adesso l'ho perso un po' di vista MFE però non ti nascondo che i dati personalmente non mi hanno entusiasmato anche perché sia ricavi che utile netto sono leggermente inferiori ai precedenti e non me lo ricordavo lo dico onestamente anche il debito non è così di poco conto perché ha pur sempre più di 800 milioni di euro di debito oggi e domani non mi aspetto segnali clamorosi da parte dei mercati azionari europei l'america oggi è chiusa domani a mezzo servizio da lunedì si potrà sicuramente avere un quadro più chiaro della situazione basta partiamo eh sì sì dai mi hai già fatto fare la marcore di 10 minuti a parte che fosse stato per te di la verità avresti voluto saperne tante altre ma io mi diverto mi diverto sempre poi con la volta del cavallo che avrà vinto e poi fantastico fantastico me la ricordo ancora però non possiamo dire anche io sono amante del trotto mi piaceva tanto gubellini e guzzinati grande Andrea dai partiamo allora una cosa importante però perché bisogna vedere bisogna vedere l'età del telespettatore perché oggettivamente c'è gubellini e guzzinati che sono due famiglie importantissime del trotto però ci sono la diciamo tutto è nato con giuseppe vittorio guzzinati che hanno avuto due figli Andrea e Lamberto ed i gubellini ha avuto pippo per cui bisogna vedere da quanto tempo segue il trotto perché diciamo che nel trotto c'è proprio l'eredità che si porta avanti prima ho citato Enrico Bellei è forse il più grande driver italiano degli ultimi 20 anni però è figlio d'arte perché è figlio del grande Nello Bellei solo per far capire che comunque un tempo il trotto aveva una storia veramente bellissima e affascinante oggi l'hanno lasciato un po' andare va bene allora tra l'altro tu non sei Giancarlo dall'aglio rientriamo su di me che magari ti cambio anche il nome va se no potrebbero confonderti e no si potrebbe offendere Giancarlo perché sarò solo 30 kg in più di due va bene dai allora partiamo con le domande dai buongiorno vorrei dei livelli d'ingresso di Campari Campari non è facilissimo da analizzare come titolo perché sembrava fino a poche sedute fa voler tornare almeno poco sopra 10 nella fattispecie 10,035 minimo del 27 di ottobre e poi 9,54 minimo del 26 di ottobre che è il minimo di quella famosa seduta in cui ha pubblicato quella trimestrale non me ne voglia la società ma abbastanza deludente la svolta di breve c'è stata sostanzialmente ieri perché il titolo ha fatto un più 2,54% minimo 10,24% massimo 10,51% e pur essendo oggi sostanzialmente una candela inside ha gettato le basi per un rimbalzo rimbalzo che può arrivare a 10,80% sul massimo del 10 novembre media mobile a 50 10,91 e mezzo 11,04% massimo del 9 di novembre poi 11,22% massimo del 25 di ottobre per rispondere in maniera specifica alla domanda del telespettatore oggi per un ingresso a patto che mi chiudo sotto 10,205 minimo di martedì va bene allora andiamo avanti 349 827 59 83 buongiorno sono Ettore vorrei un'analisi di DR Inge Porsche meno 2 anche oggi DR Inge Porsche cosa vorrà Porsche il nostro telespettatore mi sa di sì aspetto un attimo che però devo vedere se me la carica perché un po' di robe le ho chiuse però fammi un po' vedere io oggi ho la rete che è un po' lenta vediamo un po' la Porsche quante che sta facendo adesso sì beh io ho la holding vediamo se è questa che fa meno 2 no questa fa 0,61 quindi magari vorrà l'altra Porsche il nostro telespettatore però quella la devo andare a recuperare ho paura di metterci un po' vabbè alla ripresa la recuperiamo me la cerco anch'io così ah comunque è questa è la 911 la 911 eccola qua vai dai ce l'ho già guarda l'ho già recuperato DR Inge Porsche ok meno 1,89 dai comincia tu che a me mi viene da ridere poi arrivo subito appena me la fai di caricare 87 euro per azione abbiamo un grafico non disponibile oggi è tutto contro di me quindi vabbè dai ce l'ho fatto ce l'ho fatto no meno male mi hai salvato vai ma allora in effetti a me dà un valore di 86.16 meno 2,40% però Dr Inge Porsche è questa ok allora ha fatto un massimo di periodo 93,08 il 15 di novembre però poi ha chiuso a 90,82 molto vicino ai minimi di giornata sembra che voglia andarsi a cercare il minimo del 2 di novembre 82,5 e poi l'area di mini accumulo perché durata solo 4 sedute poco sotto 82,81,90 81,88 quindi capisco il dispiacere del telespettatore ma adesso se vogliamo essere estremamente sintetici è un titolo da trading range con minimo del range 81,88 massimo del range 93,08 ovviamente dipende o meglio sarà molto importante dove uscirà cioè se esce a ribasso quindi sotto 81,88 sarebbe opportuno addirittura chiudere la posizione in essere se invece va a rompere 93,08 il titolo può ritornare in area a 100 e poi a 103 quello che magari può essere deludente è che è uno dei motivi per cui io non ci ho capito nulla su Stellantis e che Porsche da inizio anno perde il 20% per cui diciamo che molti costruttori di auto sono in difficoltà quantomeno a livello borsistico perché poi Porsche è un'ottima azienda ovviamente rispetto a una Stellantis che invece è molto vicino ai massimi di periodo però può ancora mantenere 81 e 88 sarebbe il livello di uscita perché poi si aprirebbero possiamo allargarlo forse a 81 perché poi si aprirebbero veramente spazi di discesa molto importante va bene buongiorno vorrei avere un'opinione su Esautomotion è un po' che non facciamo Esa vai Esa ma allora in realtà Esautomotion è tanto tempo che non la trado nemmeno io perché comunque come noterai oltre a essere irregolare nei volumi tanti giorni ne fa veramente pochi ieri per esempio ne ha fatti 2.500 la seduta in cui ha scambiato di più nelle ultime 5 ne ha fatto 8.500 quindi il primo suggerimento obbligatorio questo non è un suggerimento che possa esimermi da fare è di utilizzare sempre controvalori molto bassi perché qui c'è un lotto minimo a 500 pezzi quindi sono poco più di 2000 euro per un titolo che scambia così poco è quasi doveroso utilizzare il lotto minimo ha fatto un minimo di breve periodo nella seduta di martedì a 4.23 ha poi recuperato fino a 4.38 però è sostanzialmente anche Sautomotion in trading range tra 4.23 e 4.50 dove transita anche la media mobile a 200 se dovesse perdere i 4.23 potrebbe arrivare fino a 4.12 però quel livello dovrebbe poterlo tenere si compra banalmente su debolezza si vende quando il titolo arriva in area di resistenza però al momento non ci sono dei grossi spunti operativi perché è incompleto laterale buongiorno grazie per la trasmissione cercavo solo notizie di STM di eventuali target dove magari potrebbe arrivare 39.60 e il prezzo di carico basta non si saluta però lo saluto lo stesso anonimo vai STM STM mi dispiace molto che ci sia l'America chiusa perché potrebbe essere anche un falso segnale quello che sto per spiegare però il rischio è che se lui ha 39.3 ho capito bene poco sopra 39 comunque come prezzo medio di carico 39.60 e io sotto il minimo di ieri applicherei uno stop profit 41.3 perché perché poi c'è subito 40.42 media mobile a 50 39.90 e poi 38.55 minimo del 14 novembre quindi il rischio qual è addirittura di passare eventualmente in perdita considerando che vedo una prima divergenza ribassista sull'RSI il titolo ha fatto un berrelli di breve periodo perché era arrivata a 35.10 il 26 di ottobre ha fatto un massimo martedì a 42.57 è stata sostanzialmente respinta dalla media mobile a 100 quindi ci sta che adesso inizi una mini correzione faccia una nuova base per poi magari ripartire e chiudere l'anno anche a 44.85 e mezzo 46.60 questo non lo posso negare del tutto non posso dire non lo farà mai però siccome tu ci tieni molto all'educational in questo blocco far diventare un titolo che era in guadagno una perdita è uno degli errori più pesanti se vogliamo per un investitore quindi personalmente ripeto sotto 41.30 applicherei uno stop profit va bene allora buongiorno mi fa piacere di vederti in una giornata tranquilla non potresti dire a quella vol ben di capri no lasciate stare il direttore che è il numero uno no però ho notato anch'io che ogni volta che manco succede un po' di tutto sul mercato ora non so se porto fortuna o sfortuna ancora devo capirlo però è vero vabbè ma oggi ci siamo buongiorno che impatto sugli utili delle banche hanno avuto i prestiti covid garantiti dallo Stato e l'anticipo bonus edilizia 110 dove hanno trattenuto il 30 e questa è una domanda dove potremmo stare qua tutto il giorno a parlarne perché bisogna vedere l'impatto eh sì sì dei presti assolutamente beh però quando leggi un bilancio quando leggi un bilancio bancario bonus 110 problemi non ce ne sono eh NPL non ce ne sono mutui meno 30 meno 40 invece sembrerebbe di no quindi diciamo che è difficile eh tutto a posto tutto a posto tutto a posto va bene dai comunque questa è veramente una domanda importante ma bisognerà vedere no allora sembra che la liquidiamo con poco è una domanda molto interessante però l'abbiamo già spiegato tante volte lo so che molti magari non hanno lo stesso approccio che io al mercato ehm non l'ho mai sentito dire tra altri miei colleghi e me ne assumo ovviamente la responsabilità e la paternità eh l'ho già detto tante volte i bilanci bancari sono redatti eh nel rispetto alle normative vigenti certo ma hanno eh ampi spazi discrezionali eh addirittura sì ma guarda che non ti crede che a quelli della BCE che monitorano sfugge niente eh quindi sì però 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 siccome siccome poi mi dicesti che eh ti chiamarono non citerò l'amministratore delegato e non citerò la banca eh e e e non citerò la banca eh però questo amministratore delegato un anno fa disse eh e non era ancora il momento di rally delle banche era proprio eh di questi tempi un anno fa noi abbiamo la possibilità di posticipare gli NPL da mettere a bilancio lo disse lui eh quindi non lo cito per cui quindi eh purtroppo eh se eh c'è questa possibilità magari eh lo vedremo nei bilanci 2024 ecco l'unica cosa che mi sento di dire è che prima o poi è un nodo che dovrà venire al pettine questo sì buongiorno Emel vorrei acquistare titoli Enel ed Enia quale prezzo Roberto da Piacenza allora cominciamo con Enel sì eh però Enel bisogna aspettare una correzione sostanziale perché adesso è veramente tiratissima eh l'ultima gamba rialzista quella partita col breakout eh del 14 novembre me la spiego anche poco eh adesso fortunatamente sta un po' rientrando eh questo ipercomprato eh che c'era sul titolo e direi che l'ideale sarebbe aspettare area 6 e 20 però eh in un mercato così tirato eh ci sono delle dinamiche che magari non tutti i telespettatori che ci seguono sono abituati a seguire nel senso che se io eh acquisto eh in area 6 e 20 comunque uno stop sotto 6,062 minimo del 10 novembre intendo dire uno stop stretto eh me lo do perché se dovesse proseguire nella correzione può arrivare a 5,938 5,908 e a chiudere il micro gap lasciato aperto a 5,896 cioè sui sui titoli eh così tirati a mio avviso di stop devono essere messi eh piuttosto stretti se invece parliamo anzi poi magari se vuoi trattiamo l'argomento perché il movimento più eclatante di ieri è stato case new holland e mi devo far perdonare dalla mia community su youtube perché ieri ne ho parlato con te al telefono poi sono talmente provato in questo periodo perché sai che faccio lo Sherpa anche più del solito che non ho messo case new online che ho pure tradato ieri e anche abbastanza bene poi magari se vuoi la facciamo eh invece per esempio è un titolo che al di là del del listing eh lo acquisterei con un'ottica di stop più largo perché è un titolo che ha perso quasi 50% dai massimi storici quindi eh debolezza area 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 6,20 eh come livello ideale di acquisto Eni invece sta già cordeggendo perché comunque c'è stata una correzione eh oggettivamente piuttosto significativa eh del VTI ehm c'è da dire che Eni se andiamo a vedere ha eh dimostrato maggiore resilienza rispetto al calo del petrolio tant'è che ieri che ha perso l'1,41 comunque non è arrivata neanche a testare la media mobile a 100 che è 14,57 e ha chiuso poi a 14,724 il minimo è stato 14,588 eh se eh devo indicare un livello ideale di acquisto direi tra il minimo del 6 di ottobre 14,316 e 14,234 minimo del 5 di ottobre va bene bentornato America un'analisi su Alma Wave e Alchemy Alma Wave eh Alma Wave me la spiego poco me la spiego poco perché per me è un'ottima azienda eh ovviamente sono stra di parte vediamo se lo sai dico perché è dalle tue parti lì della zona ma che è dalle mie parti ma non lo so eh perché poi sarebbero le tue no tu dovresti essere di parte per Orsero per esempio no certo però io sono super partes quindi non sono mai eee dica perché adesso andiamo da Noberasco gli chiediamo se si quota in borsa dai eh ma quelli sono furbi mica si quotano eh beh infatti allora non lo puoi immaginare Alma Wave non chiedermi quando ma ha acquisito la Klein per cui Sfera è di Alma Wave ah non lo sapevo eh vedi eh vedi che 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 è sempre in campo ipico si diceva che veleni che ti svelo eh allora perché non me la spiego perché è un'ottima azienda tra l'altro la semestrale che è stata pubblicata qualche settimana fa è stata più che dignitosa e invece ristagna sui minimi però attenzione lo sai che mi espongo sempre è pronta a rompere al rialzo la rottura è 4 e 10 4 e 12 con un primo obiettivo a 4 e 30 4 e 36 poi 4 e 53 con eh oltretutto pochi di sopra anche la media mobile a 200 stop obbligato sotto 3 e 75 attenzione anche qui e pur essendo in leggero aumento i volumi sono molto bassi non scambia più di 30 mila pezzi al giorno ormai dal 29 di agosto scorso per cui chi volesse provare questo titolo deve farlo con controvalori molto molto bassi perché poi c'è comunque il rischio di non essere a comprare riesci sempre poi se devi vendere ne parliamo però sono piuttosto fiducioso sul maguero va bene per quanto riguarda alchemi o alchemi è già un po' è già un po' andata è già un po' andata qui sinceramente se io volessi comprare non lo farei probabilmente adesso anche se ancora spazio per salire nel senso che se devo dare una scala da 0 a 100 direi che il 70 barra 80 per cento del movimento di recupero lo ha già fatto perché non dimentichiamoci che il 31 di ottobre andava a fare un minimo di periodo a 680 e già il 14 di novembre faceva 895 poi livello praticamente quasi ritestato anche nelle ultime tre sedute può arrivare fino a 949 955 eventualmente 980 però poi essendo già in ipercomprato il rischio bull trap diventerebbe piuttosto elevato quindi anche qui aspetterei almeno una mini correzione e direi che l'ideale potrebbe essere o poco sotto 850 o eventualmente se sono un investitore molto conservativo addirittura area 780 poco sopra dove transita anche la media mobile a 50 ciao amica oggi dovrebbe esserci Cartisano proprio da un mese ad avere un'analisi dei bilanci dei fondamentali e delle prospettive di Trawell e SS Trawell cosa ne pensa spero tu possa leggere da Andrea il mio messaggio oggi buona giornata Andrea da Legnano oggi ce l'ha fatta la tua amica Trawell caro Cartisano che dici? beh molto bene perché devi sapere che no ma ti spiego perché sul canale youtube ho fatto un solo video di value investing e l'ho fatto su Trawell quindi se ne parlassi male cioè sarei da TSE obbligatorio ovviamente no cioè scusami ma io ti devo dire che quando ho avuto qua Giuliani a me non è dispiaciuto insomma mi racconta poi trovate anche la registrazione su internet io ti devo dire che ha bello carico per ripartire anche perché loro sono stati veramente super massacrati dalla questione covid però sono riusciti a tenersi in piedi mentre tanti dei loro competitor meno solidi sono saltati quindi adesso si trova uno spazio davanti enorme in termini allora il discorso sarebbe molto lungo perché bisognerebbe parlare dei tanti rinnovi di concessioni che hanno avuto alcune anche a me molto care come l'aeroporto di Nizza ovviamente che è il mio aeroporto di riferimento ovviamente e anche nuove concessioni ma più che altro è che hanno nuovamente alzato i target del piano industriale e Intesa comunque ha colto in maniera estremamente positiva queste novità perché se non erro ha alzato ugualmente il proprio target price sul titolo e credo sia tra 10 50 e 11 ma sì però comunque diciamo che allora ho capito però parliamo di un target price alzato perché la società ha promesso determinati numeri che io credo riuscirà a centrare è ovvio che ogni giorno e perché non ti chiamino non citiamo le società che lo fanno però tante volte capita che vengano dati target price anche il 50% o più su società che oltretutto sono tra virgolette coperte da chi le ha collocate quindi la famosa Chinese Wall che da noi non esiste comunque sono per cui molto fiducioso invito il telespettatore ad andarsi a leggere l'ultimo piano aggiornato perché io lo conosco a grandi linee ma nel dettaglio preciso dovendo guardare almeno 250 300 bilanci non so essere così preciso però in poche parole è ovviamente un ritorno all'utile una cassa molto positiva e qui anche se una società è come un padre o una madre che vogliono bene a entrambi i figli io come sai mi schiero sempre senza problemi io preferisco molto travel a SOS e anche i numeri danno sicuramente ragione a travel c'è da dire che però su SOS c'è un buyback che su travel non c'è target per quanto riguarda travel 880 888 e poi nuovamente 916 966 988 tra l'altro adesso in una configurazione tecnica molto interessante perché su questa rialzista partita dai minimi del 16 di ottobre e se dovessero arrivare un po' di volumi in questo momento è più probabile che il titolo possa strappare a rialzo però attenzione perché sono diverse settimane che scambia poco o nulla i movimenti più importanti li ha fatti quando ha comunicato i dati trimestrali e quando ha alzato le stime del piano industriale diamo lo sguardo veloce anche a SOS qui la situazione è un po' più complessa titolo che attualmente sta scambiando molto molto poco come peraltro travel e qui siamo in un trading range tra 1,005 e 1,23 ormai dallo scorso 11 di settembre con tutta onestà io dovessi entrare e lo farei su travel a discapito di SOS senti visto che parliamo di tu e protege ma servizi Italia che si quota tanti anni fa 8 e fanno il delisting a 1 allora credimi credimi quando tu pubblichi un video su youtube poi ti scrivono nei commenti e avrò già ricevuto una ventina di commenti non lo sapevo no su Servizi Italia proprio e email e la domanda è sempre la stessa potrebbero rilanciare e noi diciamo con un linguaggio un po' colorito col K puntato e finisce però ok nel senso che per me sarebbe una sorpresa che a differenza di quelli che sbagliano e continuano diciamo a riciclarsi se dovessero veramente rilanciare un mese di isolamento una quarantena ecco visto che va di moda dopo il covid una quarantena me la me la me la prendo perché sarebbe anche perché purtroppo questo me ne devi dare atto io ho sempre difeso spadatratta servizi italia però sono tantissimi mesi se non qualche anno che l'ho un po' mollata perché mi sembrava incredibile ecco l'ho mollata dopo il covid perché dico con tutti i ricoveri purtroppo che ci sono stati è considerato che tra i loro business se voi andate purtroppo a trovare un amico o un parente in ospedale vedete che le lenzuole le coperte sono servizi italia quindi cioè con l'ospedalizzazione che sono state durante il covid avrebbe dovuto presentare dei bilanci molto più brillanti di quelli che è effettivamente pubblicato poi è un'azienda ben diversificata ha comunque il business in brasilia il business in india quindi oltretutto questo forse tu non lo sai è da sempre una delle prime cinque società per buyback rispetto alla capitalizzazione di mercato di piazza affari perché è sempre ha sempre varato negli anni i nuovi piani di buyback per cui alla fine l'hanno probabilmente voluta delistare perché hanno capito che ormai era probabilmente inutile rimanere quotati in quanto i costi comunque per rimanere quotati ci sono e il titolo stava ormai andando verso minimi importantissimi un anno fa era arrivata a un euro quindi nell'ottica di chi è entrato nelle ultime settimane è stata un'offerta addirittura a premio certo chi ha il titolo anche solo da un anno e mezzo se lo trova a due due e mezzo tre euro ma attenzione parliamo di una società che ha i propri massimi storici quasi a nove quindi nell'ottica di un investitore di lungo periodo è sicuramente un'avventura finita male dobbiamo dirlo chiaramente però non mi aspetto un rilancio nel comunicato Portobello oltre a DC parla di convertibili sono quelle famose a cui starà la larga scusate per come ho posto la domanda grazie mille Claudio no no ha posto benissimo allora boh e questa è la mia domanda perché nel comunicato sono andato a recuperarlo perché mi dice attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell'articolo bla 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 di aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni anche convertibili fino a massimi 20 milioni bisogna vedere dovrebbe essere io li leggo attenzione perché le convertibili sono di diverso tipo ci sono anche quelle buone tra parentesi vedito Destination Italia che è successo poi il finimondo quando emisero il comunicato perché non si capiva bene il titolo crollò fammi fare la battuta prima del dramma era anche una bella convertibile quella di Agatos vabbè lascia stare dai Agatos vabbè ah che fine ha fatto Agatos nel senso che è sospesa a tempo indeterminato allora scusami quella di Agatos alziamo il tappeto mettiamo la polvere poi quella di Agatos comunque era negoziata regolarmente e comunque non era come quelle che farà di nuovo mondo tv per capirci ah ok ho capito come volevo arrivare scusami non avevo capito comunque non lo so bisognerà lì c'è scritto bisogna vedere che tipo di convertibili sono non è chiaro se sono quelle che a noi non ci piacciono o magari un'altra convertibile non è chiaro quindi ma allora il problema di Portobello però per me è meri che un altro che se conti l'aumento di capitale a 10 milioni e obbligazioni convertibili fino a 20 milioni rispetto alla capitalizzazione di mercato è tantissimo cioè essendo crollato così tanto il titolo lascia stare il rally dell'ultimo periodo 3,65 11,30 che è mostruoso però è veramente uno sforzo enorme da chiedere agli investitori perché c'è stata purtroppo l'avvertenza con l'agenzia delle entrate e sappiamo com'è andato a finire la semestrale è stata oggettivamente deludente per cui io non ti nascondo che sono più sorpreso del rally incredibile che ha fatto piuttosto del fatto che prima sia scesa così tanto perché è una situazione abbastanza diciamo critica infatti lancio un appello che mi è stato rivolto dalla mia community se puoi intercedere quando potrai fra qualche settimana barra qualche mese quando sarà ovviamente il management più tranquillo se li potrai rinvitare perché magari ne avranno anche tutto l'interesse a spiegare la situazione oggi gli mando un max se la community vuole io mi adopero per farli venire anche perché non mi ricordo chi era venuto che sono due diciamo che non era stato un buon profeta sull'andamento del titolo questo devo dirlo questi cosa fanno tirano acqua al loro munito no ma aveva dato dei target degni però quello era un altro mondo di quelli che non possiamo nominare però poi gli è arrivato gli è successo di tutto comunque dai oggi li chiamo vediamo se riusciamo bene sono in ballo con le loro cose sono rimaste scottate magari potrebbe essere anche l'occasione per tranquillizzare gli azionisti ma lui quando è venuto qua ha sempre risposto a tutte le domande quindi non penso che abbiano problemi anzi sono sempre stati super pronti a rispondere ai telespettatori al mercato insieme vabbè comunque li chiamo e vediamo quello che succede però magari sono in ballo con quello adesso capiamo è un momento molto delicato per l'azienda quindi non so neanche se possono neanche parlare è troppo è che quello è vero va bene dai a che prezzo entrai su un euro Leonardo Cecilia da Bologna un euro vedo il titolo in distribuzione quindi mi aspetto un calo direi poco sopra 8,30 però anche qui lo so che può sembrare incredibile perché tu inviti tutti gli analisti che tu inviti hanno tutte idee magari diverse molti altri miei colleghi danno gli stop molto più larghi qui però se perde 8,15 bisogna già chiudersi cioè sono operazioni anche perché un euro non so se tu hai mille cose da seguire però borsisticamente ha iniziato ad avere problemi dopo quel dividendo straordinario molto importante che aveva dato a metà giugno 2021 quindi titolo che va a fare massimi storici a 31,36 oggi siamo ben sotto 9 quindi va comprata un euro su debolezza con stop stretto per un semplice motivo che rimangono i soliti problemi della grande distribuzione soprattutto nell'elettronica perché per esempio quella alimentare ho già fatto mille volte l'esempio dell'Este Lunga hanno margini molto bassi ma l'Este Lunga comunque è un'azienda che fattura tra i 7 e gli 8 miliardi di euro e i suoi 300 milioni di utili netto li fa mentre un euro magari può aumentare il fatturato ma ha sempre delle marginalità ridicole rispetto a quanto fattura nel senso che va magari a break even o poco sopra e vabbè ma quello è al business anche no no ma non ce l'ho con un euro cioè anche perché lo spot mi piace tanto bentornati e riprendiamo con la notizia che la Turchia la banca centrale della Turchia ha alzato i tassi dal 35 al 40% e tu ti lamenti per un più 4 e qualche cosa caro Andrea Cartisano Giotto Cellino Sim ma infatti io non voglio mica andare a vivere in Turchia io voglio andare a vivere a San Jaco a Ferrat per cui mi attengo ai tassi della banca centrale europea e al limite una dependenza in Provenza non mi dispiacerebbe e citerò una delle frasi più belle di tutti i tempi del cinema mondiale da un'ottima annata le stati in Provenza mi hanno salvato la vita vabbè basta con questa andiamo avanti dai allora dovevamo fare Leonardo giusto Leonardo poi però per cortesia dopo Leonardo facciamo CNH perché merita quello che è successo ieri due giorni che mi dici CNH adesso la faccio è vero è vero ieri è successo è successo un True Barclare quindi vabbè allora Leonardo non è facilissima da capire dove vuole andare perché adesso è in un training range piuttosto stretto tra 14,99 e mezzo 14,24 e mezzo direi che la direzionalità ce la darà appunto la rottura di 14,24 e mezzo con primo obiettivo 13,85,5 13,74 e mezzo e poi 13,57 al rialzo sopra 14,99 e mezzo devo prendere addirittura addirittura un mensile novembre 2017 abbiamo 15,09 poi 15,98 16,06 per cui solo quando uscirà da questa lateralità sapremo dove può andare Leonardo nelle prossime sedute vabbè facciamo CNH dai no perché ieri è successa una cosa veramente singolare io ci ho pure guadagnato e mi sa che sono stato anche fortunato perché ho comprato poco sopra 8,80 poco sopra 8,75 e in poco meno di un minuto sì sono riuscito a prendere lo spike e sono riuscito a vendere poco sotto 9 poi ha chiuso ancora più in alto perché c'è stata la comunicazione dei dati di John Deere che tra l'altro io ho letto con ritardo perché non è che ho un'informativa poi io conosco l'inglese è una parola grossa erano stati anche piuttosto buoni solo che sai che in America fanno tutte le loro elucubrazioni per cui il pre-market ha iniziato a scendere in maniera importante credo fosse arrivato a perdere 6-7% così ha fatto lo spike case di New Holland andando però a chiudere poi a 9,202 e quindi non facendo scattare eventuali stop per chi era long multi-day come ultima cosa però volevo farti anche notare che c'era e ne è stata dimostrata validità anche un doppio minimo su time frame settimanale prima di gennaio 2021 ultima di gennaio 2021 poco sopra 8,80 quindi è in un'area molto delicata tu hai detto che hanno giustamente ulteriormente aumentato di short però comunque qui sui minimi è un titolo interessante perché un rimbalzo fino almeno a 9,772 che è il massimo dell'8 di novembre potrebbe anche farlo va bene vado vai buongiorno per contesia volete il grande cartesano ai livelli di entrata di Stellantis è intesa grazie siete forti grazie mille ecco Stellantis però veramente diciamo che se fosse un attore sarebbe Mickey Rourke in Angel Art Ascensore per l'Inferno il famoso Johnny Favourite perché hai una cultura cinematografica che lasciamo perdere nel film Angel Art che è il miglior film che aveva mai fatto di Mickey Rourke vorrei vedere la Bibbia la Bibbia non l'hai mai letta la Bibbia è questa di finanza questa è la Bibbia questa è la Bibbia fammi vedere dov'è che non ci vedo da qua dal monitor ah Dumas certo il Conti di Montecristo ma di che stiamo parlando doppio volume io ho sbagliato tanto perché aspetta che faccio un'altra cosa vai vai prego fai pure come se fossi a casa tua non ti preoccupare tra l'altro belle questo 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 è il grande Chateau Diff ah bello ecco l'errore l'errore alzalo un po' l'errore che ho fatto è che quando sono andato allo Chateau Diff perché io ci sono pure andato non ho comprato il tomo in francese perché costava tipo 500 euro che l'avrei dovuto mettere su un leggio e accogliere le persone che venivano in ufficio da me con con questo libro ricantando anche anche leggendo un capitolo sì perché io spero che la mia vita sia la trama del conte di Monte Cristo e qui chiudo e qui chiudo però c'è da dire che a differenza di lui che era un semplice marinaio perché era Edmond io partivo da molto più avanti per cui non so se ci riuscirò ti dicevo in Angel Art ascensore per l'inferno Johnny Favorite fa un patto col diavolo e Stellantis ha fatto un patto col diavolo perché anche oggi leggo Stellantis ritira oltre 32.000 SUV per potenziale rischio incendio SUV ibridi Jeep Wrangler dal mercato statunitense a causa di un potenziale rischio di incendio e il mercato non sta minimamente considerando nemmeno questa situazione quindi per far scendere Stellantis non so cosa debba succedere e diciamo che il gruppo adesso ha una dicotomia Iveco e Case New Holland debolissime e Stellantis e Reis invece nell'Olimpo siamo in un ampio trading range compreso direi tra 17,632 e il massimo del 16 novembre che è 18,938 se però devo essere compratore a questi prezzi anche no preferirei se avessi già il titolo gestire con uno stop profit sotto 18,32 e comprare non prima di 17,78 minimo del 10 novembre poi l'altro aspetta sono già andato avanti mannaggia adesso come faccio a chi beccato mi dici sempre non segnare nulla che io mi ricordo tutto ti dico tutto io intesa tac hai visto intesa prego anche perché intesa insomma non è che proprio un titolo del growth ma allora il grafico ovviamente è molto sporcato dal gap dividendo perché ovviamente tutti mi dicono no no perché bisogna edulcorare dal gap no invece no il gap c'è adesso puntiamo ad andare a chiudere anzi sì no 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 puntiamo a rompere il ribasso però sì hai ragione adesso bisogna vedere quello che succede no allora adesso diciamo che io preferisco utilizzare un software da 15 anni perché mi dà non lo cito perché sennò ci vorrebbe il disclaimer cita cita noi qua nomi numero io non ho problemi no allora io io sono ambassador senza portafoglio perché non ricevo un euro sono l'unico pensa che onesto che sono di jchart lo cito lo cito Fulvio Toma siamo in ottimi rapporti con Fulvio è da più di 15 anni che ce l'ha ed è il software lo uso molto onestamente perché è il migliore per gli studi post chiusura mercato non va bene per farci trading intraday perché è leggermente ritardato però è il più economico in assoluto costa veramente pochissimo e quindi questo software non ha grafici rettificati ma mi fa vedere ancora i gap il minimo di 2,64 e mezzo del 17 novembre è il minimo di venerdì prestacco dividendo quindi come dici tu ipoteticamente in caso di rimbalzo può andare fino a 2,64 e mezzo il rischio però in questo momento per il breve è che se rompe 2,51 e 6 può tornare vabbè 2,50 minimo del 2 di novembre poi 2,46 e 3 e ha poco sopra le medie mobili a 100 2,46 e 8 e la medie mobili a 50 2,47 per cui per me prima di tornare a chiudere il gap deve comunque andare a testare le medie mobili a 50 e 100 Buongiorno Unicredit è sostenuta dal Bayback però cosa ne pensa il bravissimo cartisano dalla crisi del calosso immobilare Signa dove sembra che la sua controllata austriara Raiffeisen sia fra i grandi creditori in effetti anche il grafico da qualche giorno mi sembra che evidenzi ceni di debolezza vi ringrazio siete forti si ha ragione che tra l'altro è stata una news portata all'attenzione da MF sulla grana austriaca l'avevano intitolato il pezzo Luca Gualtieri lui è l'uomo delle banche di AMF va bene Unicredit che dici? si è a rischio distribuzione è ovvio che sai qui parliamoci chiaro dipende da quante ne comprano al giorno perché se ne comprano 3 milioni come è capitato in alcuni giorni è molto difficile far scendere il titolo a inizio settimana scorsa c'è stata qualche seduta in cui hanno comprato sensibilmente di meno se ti ricordi la tranche precedente compravano più o meno tra gli 800 e i 900 mila pezzi al giorno quindi se non ci fosse il buyback direi a occhi chiusi titolo in forte distribuzione con primo obiettivo 24,51 24,25 e mezzo e almeno 23,905 però bisognerà prestare molta attenzione a quando verranno comunicato se non erro comunicati se non erro sono il lunedì i buyback giornalieri che vengono forniti al mercato e a quel punto ci potremo fare un'idea più precisa però do ragione al telespettatore questa vicenda l'avevo colpevolmente seguita poco però perdonatemi ma per qualche giorno ancora sarò impegnato come scerpa per cui quando chiude il mercato parto poi torno vengo a fare il video su youtube e riparto quindi è per quello che la mia salute è così cagionevole nonostante sia diciamo oversize ormai e potrebbe anche raggiungere 23,12 23,10 come obiettivo per cui ha fatto benissimo a farlo notare io non sapevo di questa problematica lo avrei collegato più a una certa debolezza Montepaschi esclusa del settore bancario almeno per il breve periodo perché poi vengono tutti i titoli bancari da rally incredibili va bene ho programmato tre acquisti su Montclair primo acquisto ho fatto a 48,91 quali livelli mi consiglia Cartisano per i prossimi due acquisti grazie e complimenti siete una coppia fantastica di fatto di fatto coppia di fatto Montclair beh allora diciamo che io non sono così caldo sul lusso non lo so anche perché ieri sono arrivati un po' di revisioni in particolare quella di LVMH revisione a ribasso del Target vabbè comunque vai ma credo che nel breve non dovrebbe riuscire a mettere in piedi il suo piano perché Montclair sta per rompere il rialzo al di là dei giudizi del noto giornalista Emerick Lenarda perché Area 53 è un'area di forte resistenza abbiamo un massimo il 26 ottobre 52-94 massimo del 15 novembre 53-02 media mobile a 50 53-01 ma io vedo Montclair pronta per un primo obiettivo 53-98 54-20 poi 54-60 56-24 però però siccome tu hai dimostrato e non perché siamo diventati amici con gli anni di essere un giornalista molto preparato quello che hai detto quando ci ha chiesto il telespettatore Montclair non è da sottovalutare perché molte analisi e non parlo solo di Montclair fanno riferimento a un new normal per il settore lusso con crescite molto più modeste rispetto al recente passato quindi bisogna considerare che come Montclair oggi la vedo in ripartenza è molto difficile rivederla sui massimi di maggio a 69 perché la tendenza e Louis Vuitton è la capofila ovviamente è quella di vedere crescite più ridotte nei prossimi anni per l'intero settore lusso c'è da dire poi su Montclair che sai cos'è che mi fa un po' sospettare che praticamente è andata a detto fatto a richiudere il gap quello lì di fine ottobre ma non si è più mossa da lì cioè non è che poi ha continuato la sua corsa è sempre rimasta lì sul livello di richiusura del gap senza più io lancio un appello a Remo Ruffini visto che Gianni Tamburi non mi chiama perché io sono un manovale e lui invece è un value investor quindi non vuole avere un manovale al suo servizio riguardo te l'ho già detto l'altra volta al listino di Stone Island perché ormai è diventato quasi un brand di lusso come prezzi perché secondo me io vabbè tanto oggi siamo una giornata di disclaimer comprai un costume Stone Island a flanella in centro in via d'Azzeglio dieci anni fa lo pagai un'inezia quest'estate ne ho visto più o meno uno uguale costava il triplo quindi diciamo che sul listino Stone Island farei una riflessione perché poi il ramo che ovviamente ha leggermente zavorrato i conti di Moncler che ha pubblicato solo il fatturato è cresciuta bene la casa madre la Moncler che Remo Ruffini ha rilanciato in maniera incredibile il ramo Stone Island CP Company per capirci invece è cresciuto molto poco perché noi soprattutto come me nobili decaduti possiamo permetterci potevamo permetterci Stone Island e non Moncler quindi se i prezzi di stino vengono ancora aumentati non potremmo più permetterci nemmeno Stone Island caro cartisano tu che pensi che sono qua a scaldare la sedia anche se non ho la sedia ho mandato un max a chi di dovere con su scritto mi richiedono peligra certo organizziamo post assemblea e allora io ho mandato ehm beh devo dire devo dire che devo dire che ti avevo sottovalutato tac detto fatto Emery fai correggere il nome di cartisano sul monitor l'abbiamo già fatto che dice buongior coppia fantastica che dice dopo un po' di tempo il mitico cartisano di Ariston e soprattutto OVS Ariston allora Ariston per me rimane un mistero l'ho già detto in tutte le lingue del mondo parafrasando il grande Leonardo Pieraccioni che peraltro per me il suo capolavoro è i laureati per me è il primo film l'opera prima è un capolavoro vedi potrei riciclarmi anche come critico cinematografico sì qual è il problema di Ariston che è un'azienda un colosso la regina del bianco si dice perché quando produce elettrodomestici di colore bianco come lavatrici ma come frighi insomma anche asciugatrici ovviamente però ha probabilmente in maniera inconsapevole sbagliato il timing della acquisizione in Germania che ha fatto esplodere il debito è l'unica vera criticità che trovo su Ariston perché questo ha fatto esplodere il debito siamo ormai a più di 700 milioni di euro e con tassi che comunque continuano a essere così alti e sicuramente Ariston non si finanzia come un utilities probabilmente ha pesato sull'andamento di mercato tra l'altro adesso la vedo nuovamente a rischio ritorno sui minimi storici magari si ferma a 5,34 i minimi storici sono stati a 4,89 però è un titolo io lo dico raramente che per me a meno di situazioni clamorose che dalla lettura dei dati di bilancio non sono riuscito a estrapolare da questi livelli potrebbe avere proprio come value investor degli spazi di rialzo molto importanti e potrebbe arrivare almeno fino a 7,90 che sono poi massimi della prima metà di agosto quindi non di anni fa adesso però c'è per il breve ancora da aspettarsi un minimo di correzione perché questa sembra una fase di distribuzione ha fatto il suo rimbalzo 4,89 6,11 adesso probabilmente andrà a 5,34 lì credo si metterà in laterale e si potrà provare un acquisto OVS l'ho già detto mi sembra la settimana scorsa ma lo ribadisco io sono entrato sono in modesto guadagno ho un target a 1,99 se faccio l'operazione da trading stretto mi do uno stop ovviamente sotto 1,75 che è il minimo del 15 novembre per un investitore di medio-lungo periodo lo stop deve essere messo più largo sotto il minimo del 23 di ottobre 1,601 ammazza sono tantissimi i messaggi cartisano ciao allora uno quando è tornato dalle vacanze che è mancato un mese mi ha detto sai da settembre facciamo il podcast sarebbe stata una bella occasione per come a parte che era un segreto e non dovevi dirlo però vabbè tanto lo facciamo più ormai non è detto non è detto sono sempre in bar però adesso non riuscirai a garantire una cosa quotidiana come per quello siamo un attimino fatti ormai i podcast lo fanno tutti un leggerissimo carico di lavoro in questo gli unici che non lo fanno siamo noi ma vabbè va buono ma guarda ti conviene con quello che diresti anzi anzi scusami in un podcast mi viene la battuta un podcast non si nega a nessuno ci portano via se con te che mi replichi la telefonata che facciamo a pomeriggio su un podcast ci portano via a tutte e due meglio di no non lo so ancora sono in dubbio va bene allora comunque grazie per aver spoilerato mfb un'analisi del buon cartesano l'utile operativo di mfb a teleprevisioni leggimi grazie mfb titolo del giorno ma vabbè l'abbiamo già fatto ma no ha ragione il telespettatore però devo dire la verità che allora ormai abbiamo capito una cosa sai che io mi faccio forza su questa americanizzazione del mercato azionario italiano sì ma in questo senso è proprio centrato il paragone perché il movimento di mfb oggi ancora più che di mfa che mi sembra leggermente più debole verifico ma non vorrei dire sciocchezze ma no sono tutte e due molto positive forse scusami mfb è partita prima di mfa è perché sono state battute le stime per cui ormai noi viaggiamo veramente in parallelo con gli stati uniti per cui anche se c'è un bilancio non clamoroso se però batte le stime magari il titolo come è capitato oggi viene comprato però ripeto hanno ridotto il fatturato e hanno ridotto l'utile e hanno un debito comunque superiore agli 800 milioni di euro e l'utile è comunque attorno agli 80 milioni nei primi nove mesi non è che è 500 milioni quindi per me è stata una reazione fin troppo positiva allo stesso tempo siccome questa trasmissione si chiama analisi tecnica lo spazio per ulteriori rialzi anche su mfb c'è oggi si è fermata poco prima della media mobile a 100 3,12 ha fatto un massimo a 3,097 abbiamo a 3,25 la media mobile a 200 e poi c'è area 3,30 che è l'area di massimi della prima metà di settembre di quest'anno quindi ha ragione il telespettatore l'unica cosa che i numeri non sono stati a mio avviso così brillanti come però il mercato che ovviamente comanda sempre sta garantendo a livello di rendimento a mfb e ancora ho visto leggermente più mfa anche se prima è partita la bide la a ecco perché hanno cacciato Altman per quattro giorni perché praticamente ci sarebbero due ricercatori interni un gruppo di ricercatori interni a OpenAI che ha mandato una lettera al consiglio dicendo che la nuova intelligenza artificiale di OpenAI è un rischio per l'umanità minaccia per l'umanità e questi qua giocare a fare io penso che quando sei partito pensavo che dicessi ecco perché hanno cacciato Morgan scusami beh in effetti forse è più di appeal e tra l'altro sai come si la chiamano la nuova intelligenza artificiale quella di OpenAI Q ci saranno i cannonisti che salteranno va bene va bene dai come fareste senza cartisano mi scrive Paolo da Bologna ma sicuramente sarei più tranquillo il pomeriggio questo è poco ma sicuro buongiorno potete fare un'analisi tecnica di Elica PMC a 181 e TXT PMC a 15,7 grazie mille buona giornata Stefano Dalbiate allora cominciamo con Elica sì sì va bene vai direi ti vedo tutto aspetta ti vedo tutto distratto no lo so anche perché lo so lo so te la svelo l'ho visto passare no 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 non hai capito non hai capito perché praticamente stavo rileggendo le notizie e stamattina non l'abbiamo detto c'è stato un accordo tra Essilo Ruxotti che è Moncler per la licenza di esclusiva per 4 anni 5 anni diciamo e poi ridevo perché stavo pensando che ho ricevuto una richiesta di analisi e lo dico oltre i 100 non so quanti sono o più che scrivono a te anche io ho ricevuto un whatsapp dicendo perché non analizzate questo titolo quindi provano anche a scavalcarti non funziona qui c'è la rivoluzione allora visto che fai il furbo è andato in asta di volatilità il warrant di Deodato Gallery che tanto so che è uno dei tuoi preferiti così impari no allora in questo periodo non lo sta facendo però ti posso dire che c'è una pattisserie pazzesca c'è una roba e ne stanno passando size anche importantissime un'altra anomalia che c'è sul mercato in questo momento sono le size mostruose sui book dei titoli Mid Cap Star oggi per esempio una volta di Garofalo che ha dei lotti da 250.000 che sono controvalori pazzeschi per un titolo come Garofalo a 4,70 a 4,80 adesso non si vede nel book a 20 anche a 4,90 però dai se no poi veramente andiamo a finire nella van spettacolo che io l'ho amato tanto però giustamente poi i telespettatori si possono anche arrabbiare Erika Erika ottimo ingresso da parte del telespettatore perché adesso Erika può fare un ulteriore spunto rialzista con un primo obiettivo a 2,21 poi media mobile a 102,27 quindi direi può arrivare fino in area a 2,40 attenzione però che stiamo entrando in ipercomprato per cui al momento lo stop va messo alla chiusura del micro gap a 1,95 e mezzo cioè se perde 1,95 e mezzo si chiude per evitare che il titolo torni a 1,82 quindi sul suo prezzo medio di carico però fino in area a 2,40 questo movimento può sicuramente arrivare baciato dal sole cartesano sì c'è un'esposizione c'è un'esposizione a sud TXT 15,17 è molto interessante TXT perché è un titolo che è sceso molto non ha ancora se vogliamo dei multipli così a sconto rispetto ad altre società mid-cap star però vedo anche TXT pronta per uno spunto rialzista come avrei capito ci metto sempre la faccia mi sembra che ci sia una possibilità di recuperare parzialmente il gap che si è creato tra blue chip e mid-cap star non tutte bisogna fare un attento stock picking TXT potrebbe essere una di queste con un primo obiettivo a 16,78 poi 17 26 17,52 media mobile a 100 17,63 non mi spingo oltre anche se potrebbe arrivare fino alla media mobile a 218,78 perché poi quando dovesse rompere queste resistenze statiche che incontra sul grafico di volta in volta il titolo entrerebbe in ipercomprato quindi il rischio bull trap come dico spesso sarebbe molto molto più concreto buongiorno Andrea visto che oggi c'è la puntata lunga se vi avanza un po' di tempo potreste dedicare 5 minuti alla gestione delle posizioni cedere a metà posizione a target vendere tutto training stop eccetera eccetera Luca da imperia eh Luca però non è che possiamo fare questa analisi a modo di insomma analisi generale forse è meglio il caso specifico che dici Cartisano come possiamo aiutare il nostro ma allora diciamo che essendo purtroppo il mercato italiano piuttosto liquido tolto una cinquantina di titoli forse possiamo arrivare a 100 io avrei detto 5 titoli però vabbè no vabbè adesso perché non è che tutti entriamo con le potenzialità economiche che hai tu eh cioè anche noi trader manovali certe volte compriamo 2 o 3 mila euro di un titolo sottile quindi diciamo che eh l'unica certezza che noi abbiamo è che questo discorso può essere fatto per me sui titoli liquidi perché eh quando tu prendi prima parlavamo di Tecma come posso dirti il profit è qui eh vendi ne metà eh mettiamo uno stop profit se torna leggermente indietro perché eh ci sono a parte gli ultimi giorni dei volumi talmente rarefatti che non ha molto senso a livello di blue chip io personalmente anche se non sono un bravo trader multi day l'ho sempre detto mi difendo molto di più in intraday bar overnight preferisco la gestione dello stop profit lo stop profit eh può essere di due tipi o monetario o legato all'analisi tecnica ovvero se un titolo rompe a ribasso quando siamo long un livello tecnico importante noi chiudiamo la posizione l'alternativa che è lo stop profit monetario quando arriviamo a guadagnare 500 euro su una posizione multi day possiamo dire eh quando ne guadagno 400 quando ne guadagno 300 chiudo comunque per non perdere tutto il mio guadagno poi ci può essere anche una può essere una soluzione sensata anche a target perché i target soprattutto in un movimento in un movimento a rialzo molto importante possono essere molteplici vendo metà della posizione metà me la tengo però io personalmente e sarebbe un take profit a quel punto preferisco lo stop profit però siccome nel 2023 non ne ho azzeccato una mi ritiro per deliberare e passiamo a un'altra domanda grande mi piace questa Juventus Ferrero virgolo non abbiamo notizie di operazioni di delisting ma io scusa ma chi le deve oddio c'è qualcosa di strano vabbè comunque niente delisting per la Juve loro non hanno notizie se voi che dovete dircelo vabbè ultima dai buongiorno che è possibile poste interpump poste ma allora poste fammi un po' vedere perché la seguo piuttosto poco però il grafico è abbastanza chiaro distribuzione in atto oggi tra l'altro sta provando a perdere la media mobile a 200 che è poco sopra area 980 primo obiettivo la media mobile a 50 9,73 8 poi 9,64 9,63 6 9,52 9,45 9,45 tradotto poi potrebbe scendere ancora se ho il titolo non devo andare oltre 9,63 e 6 nel mantenere la posizione perché sembra proprio voglia invertire a ribasso interpump c'è stata quella vendita importante di cui ci siamo occupati perché l'abbiamo proprio letta assieme la notizia di tamburi di 1,8 milioni di azioni a 42,1 il titolo sta provando a fare base poco sopra 41,5 in realtà se dovesse perdere il minimo del 13 di novembre 41,47 potrebbe arrivare fino a 40,38 39,92 39,63 avendo un micro gap da chiudere sul massimo del primo di novembre a 39,57 anche qui per essere ancora più chiari è un trading range al momento tra 41,47 e 45 però sembra che abbia voglia di andare a testare i minimi di questo trading range e probabilmente di romperli a ribasso caro Andrea Cartisano siamo arrivati al termine della puntata di oggi non so come faremo ma come ti dico sempre ci faremo una ragione per sentirci poi la prossima settimana giovedì e io siccome tu sei la vergogna di noi Liguri Doc ti saluto dicendoti per essere Maroutu non sono andato poi così male va bene ciao Andrea alla prossima